Ibrahimovic, siparietto in diretta con Ambrosini. Milano una serata da ricordare per i Milan, tra la vittoria contro l'Atalanta e i ritorni di Magnane Ibrahimovic. In particolare il ritorno dello svedese era atteso da inizio stagione. Nel post partita Ibrahimovic ha parlato del suo rientro e della squadra, dando vita anche ad un siparietto in diretta con l'ex rossonero Ambrosini. Ibrahimovic. Siparietto con Ambrosini l'ex centrocampista, durante l'intervista post partita. Chiede ad Ibrahimovic se ha visto il suo messaggio. Sì, ma decido io quando scriverti. Replica lo svedese. No, aspetta. Stai calmo, sono io che ho messaggiato a te. Leggilo quando puoi, risponde Ambrosini. Allora sono io che lo leggo quando voglio. Conclude Zlatan. Poi decide di controllare il telefono e afferma, non lo so se ho il numero di Ambro, mi sa che l'ho bloccato. Virgola.